Da dieci anni l'Automobile Club Pistoia ha iniziato un progetto di solidarietà denominato Caro Socio, quest'anno l'omaggio l'hai fatto tu, che riconosce un contributo in favore di associazioni onlus che operano sul territorio per le categorie deboli della società. Dopo il primo assegno consegnato nel 2013 all'APR, Associazione Pistoese per la Riabilitazione, ora MAIC, il consiglio direttivo dell'ente quest'anno ha individuato a meritorio del contributo cinque realtà del territorio che sono l'Associazione Voglia di Vivere, l'Associazione Aism, la San Lorenzo Handmade, Margherita Silenziosa Onlus e Unitalzi Pistoia. Abbiamo voluto fin da subito convertire quello che era un omaggio sociale, una parte dell'omaggio sociale in fondi da destinare a chi opera nel sociale. Passato ne abbiamo avuti una decina in totale, quest'anno sono addirittura cinque, il che significa che c'è un grande bisogno nella società e c'è anche una grande disponibilità a soddisfare questi bisogni che non sono evidentemente soddisfatti dalla struttura pubblica. Noi diamo quest'anno un contributo all'Associazione Voglia di Vivere che si occupa dei problemi oncologici, poi lo diamo all'Associazione Pistoiese della Sclerosi Multipla che è una malattia terribile, orrenda, che prende anche molto i giovani. Poi infine diamo un contributo al San Lorenzo Handmade che è una struttura che si occupa di creare delle condizioni per chi non ha abilità propri ma ha delle disabilità per poter avere anche un accesso al lavoro. E poi abbiamo Margherita Silenziosa Onlus e questa è una cosa più legata all'ambito dei tumori e soprattutto dei tumori per i bambini. In ultimo c'è l'Unità Alzi Pistoia che è la biblioteca non di libri ma di libri persone, quindi un modo per contattare le persone attraverso le esperienze di queste persone avere una sorta di storia, di episodi che sono degni di essere tramandati.